Ciao ragazzi e bentrovati. Oggi vi voglio parlare di un future che immagino sarà sconosciuto alla maggioranza di voi, ma che è di sicuro interesse proprio per le opportunità di trading che ci può garantire. Si tratta infatti di un future che presenta ottime opportunità di trading soprattutto con l'utilizzo di logiche di breakout. Ma prima di entrare nel vivo vi chiedo come di consueto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e perché no di mettere anche già un like a questo video. Ciao a tutti io sono Francesco Placci responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy. Qual è dunque questo future di cui voglio parlarvi? È il future sulle emissioni di carbonio, quotato all'index, che è un segmento del mercato ICE. Di che cosa si tratta? Sappiamo che la politica ambientale dell'Unione Europea è molto ambiziosa. Addirittura nel 2050 le emissioni di gas sera dovranno essere ridotte del 55%, quindi le imprese europee devono impegnarsi ad inquinare sempre di meno. Ecco che chi non riesce a stare entro i limiti può comprare dei certificati da quelle imprese che sono più virtuose, diciamo così. E quindi si è creato questo mercato europeo rappresentativo appunto dei certificati sulle emissioni di carbonio che è di sicuro interesse, è tra i più liquidi al mondo, anzi probabilmente è il più liquido al mondo, e stanno nascendo proprio in questo momento anche in America nuovi future che hanno il medesimo principio. Al momento, al di fuori dell'Europa, questi future non sono particolarmente liquidi. Io ho iniziato a tradare questo tipo di future quando ancora era sul mercato IPE, quindi International Petroleum Exchange di Londra, attualmente si trova sul mercato index di Amsterdam. Il suo ticker è ECF, talvolta lo troverete anche come EUA. È un mercato che è cresciuto molto, se guardiamo l'andamento del future a partire dal 2020-2021, vediamo un prezzo che parte da un minimo di 15 fino ad arrivare a un massimo di quasi 100€. E un brusco cralo, ovviamente questo dipende dalla guerra tra Russia e Ucraina, perché nel caso in cui dovessimo aver bisogno di energia, proprio perché tagliamo le collaborazioni, l'importazione dalla Russia, ecco che potrebbe venire meno la necessità di una politica così restrittiva sulle emissioni di carbonio. Questo è il motivo per il quale questo future recentemente è sceso tanto. I dati sono aggiornati due giorni fa, al momento è già tornato a un valore di circa 75€. Ma perché vi parlo di questo future, vi chiederete giustamente? Perché è un ottimo sottostante su cui implementare sistemi di breakout. È un sottostante che si muove molto, quindi che mostra in intraday una discreta volatilità ed è questo il motivo per il quale risponde molto bene a logiche di breakout. Quindi ho pensato di andare ad applicare su barre a 30 minuti un banale sistema di opening range breakout. È un qualcosa di veramente semplice, ve lo mostro. Eccolo qua. Quindi in poche parole abbiamo una position size basato sulla volatilità, quindi non lavoriamo sempre con un contratto. Questo perché sui sottostanti che sono cresciuti molto potrebbe falsare un pochino il test. Quindi compriamo un numero di future in funzione della volatilità dello strumento. In alta volatilità riduciamo la size, in bassa volatilità la aumentiamo, ok? Quindi fondamentalmente teniamo la volatilità a denominatore per selezionare la giusta quantità di future su cui andare a tradare. Parliamo adesso degli ingressi. Sono dati banalmente dalla chiusura della giornata precedente più un trigger che è basato sull'ATR. Quindi prendiamo la chiusura del giorno prima, ci sommiamo per entrare a long una percentuale del true range e ci sottraiamo per andare short un'altra percentuale dell'average true range, in questo caso a 10 barre. Uscita a fine giornata e infine uno stop loss in percentuale sul nozionale. In questo caso tenendo come valore 1 abbiamo l'1% del nozionale. Quali sono i risultati di un sistema così semplice? Eccoli qua, questa è l'equity line complessiva, questa è quella long, questa è quella short che non è affatto male visto il buy and hold del future. È sicuramente un sistema interessante, vi anticipo già che si può fare di molto meglio. Lo scopo di questo video infatti non è mostrarvi un trading system, quanto piuttosto farvi ragionare sull'aspetto che spesso la scelta dello strumento su cui andiamo a fare trading è altrettanto importante. Anzi oserei dire che a mio parere ha addirittura un'importanza maggiore. Detto questo diamo un'altra occhiata alle metriche. Così configurato il sistema produce un guadagno di 218 mila euro con un massimo drawdown di 17 mila in pochissimo tempo, quindi in due anni e quattro mesi. Veniamo adesso agli aspetti negativi perché purtroppo ce ne sono. Trattandosi un future un po' particolare, non tutti i broker vi consentono di tradarlo. Interactive Broker ad esempio vi consente di fare trading su questo sottostante, purtroppo però non offre la leva, quindi la marginazione è piuttosto elevata. Infine anche i dati di mercato sono tra i più cari, quindi ci sono alcuni alcune limitazioni operative. Aggiungo come ultimo aspetto che trattandosi di un future che ha cambiato mercato e che inizialmente era anche abbastanza illiquido, i dati non sono del tutto affidabili e non è facile trovarli. Detto questo però l'aspetto fondamentale è un aspetto su cui ho fatto leva diverse volte in diversi video, ossia l'importanza del sottostante su cui andiamo a fare trading. Spesso ci focalizziamo troppo sul sistema perfetto senza prestare invece la necessaria attenzione sul sottostante che si sceglie per fare trading. Personalmente mi sento molto più a mio agio facendo trading con un sistema semplice di poche righe su un sottostante inefficiente piuttosto che, passatemi il termine, diventare matto per trovare l'ennesimo sistema per esempio sul DAX che per funzionare richiede un maggior numero di condizioni e ha al suo interno una maggiore complessità che inevitabilmente ne compromette almeno in parte la robustezza. Quindi se da un lato è fondamentale l'approccio sistematico al trading, dall'altra parte è altrettanto importante la scelta del sottostante su cui andiamo a fare trading sistematico. E se tra voi c'è qualcuno che vuole approfondire questo approccio al trading, quello che insegniamo qui alla Unger Academy, vi lascio un link in descrizione che vi sarà molto utile. Potrete vedere una presentazione del nostro fondatore Andrea Unger che vi introdurrà proprio al mondo del trading sistematico secondo il suo metodo che gli ha consentito di vincere il campionato mondiale di trading con denaro reale per ben quattro volte. Potrete anche ottenere il nostro best seller, il metodo Unger, coprendo soltanto le spese di spedizione e tanto altro ancora. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesamente di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale e vi do appuntamento al prossimo video.